buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale passate le feste iniziamo questo 2023 con una domanda quale potrebbe essere un trend nel mondo delle cripto valute da monitorare per il prossimo rally ovviamente non prendete questo contenuto come un consiglio finanziario o un sollecito all'acquisto dei progetti inerenti a questi ecosistemi e che andremo a vedere in questo video mi raccomando non sono un indovino e non mi permetterei mai di consigliare un acquisto o un investimento a qualcuno di voi ma ci sono alcuni protocolli magari anche partiti anni fa come esempio 2017 2018 che all'epoca venivano considerati veramente futuristici e non si rifilava nessuno che forse quest'anno o comunque nei prossimi anni potrebbero raggiungere la maturazione sto parlando dei protocolli e della blog cene inerenti all'intelligenza artificiale che sta prendendo già una piccola spinta nel finire del 2022 e vedremo come si comporteranno nel 2023 2024 ma prima di vedere il succo di questo contenuto vi invito a supportare il mio canale con l'iscrizione ad univianche la nostra community telegram trovate tutti i riferimenti in descrizione ad ogni video e mi raccomando lasciatemi un like per supportare ancora di più il mio lavoro se vi dicessi block cene e intelligenza artificiale quale cripto valuta quale token quale protocollo vi verrebbe subito in mente a me forse nostalgico dei tempi che furono in passato mi viene subito in mente come intelligenza artificiale protocollo annesso singularity net con il token agix protocollo ed ecosistema più che altro che si concentra per appunto nelle intelligenza artificiale e i servizi annessi ma anche nella robotica più sofisticata dove l'intervento dei robot umanoidi dalla mimica le espressioni facciali veramente assomiglianti all'essere umano possono dare un supporto nella vita di tutti i giorni visione come detto che magari qualche anno fa sembrava impensabile ma pian piano negli anni tastello dopo tastello sta diventando sempre più attuale e sempre più concretizzabile gli scienziati e il team di singolare t net aperto alla strada allo sviluppo di intelligenza artificiale prima di tutto con il robot umanoide sofia descritta da tutti gli esperti del settore e non come robot più espressivo del mondo lo scopo del progetto sofia è di comprendere appieno il linguaggio umano e continuare a sviluppare un framework di intelligenza artificiale che si sperano domani possa raggiungere uno stato noto che viene chiamato intelligenza generale avanzata ovvero l'intelligenza artificiale a livello umano ma non solo il team alle spalle di singolarity net e tra quelli più schedolati e più performanti a livello globale infatti un po come il team di cardano è composto da scienziati sviluppatori blog chain ingegneri tecnologici ed intelligenza artificiale ed è stato fondato dal suo sì o ben gorzel che è uno scienziato di fama mondiale per quanto riguarda l'intelligenza artificiale singolarity net è stata la prima piattaforma in grado di sostenere gli sviluppatori fornendo dei servizi atti alla vendita per tutti coloro che necessitavano di assistenza specializzazione e servizi annessi per l'appunto all'intelligenza artificiale collo a per l'appunto un token utility che viene chiamato agix che è un token oltre a essere gli utility un token di governance nato principalmente sui tirium adesso è diventato multi cene con il supporto di cardano inoltre oltre a produrre i propri servizi la propria intelligenza artificiale la propria architettura con degli altri spin off all'interno del protocollo agi singolarity agisce proprio come un vero incubatore cercando di fornire una guida sia teorica che pratica ma anche a sostenere con finanziamenti e competenza tutte le iniziative atte a trasformare l'intelligenza artificiale a livello mondiale ma soprattutto mantenendo un vero spirito decentralizzato infatti è una piattaforma aperta open source decentralizzata di servizi che sono resi accessibile attraverso la sua blog cene gli sviluppatori vanno a pubblicare i propri servizi sulla rete di singolare t net dove possono essere utilizzati da chiunque disponga una connessione internet gli sviluppatori possono vendere e successivamente a debitare l'utilizzo dei loro servizi utilizzando per appunto il token nativo ovvero agix quali servizi si possono acquistare e quali servizi può essere utile l'intelligenza artificiale questi sono solo una piccola parte degli utilizzi dell'ecosistema di agix partendo da singularity dao che è un protocollo di gestione del portafoglio ovviamente tutto decentralizzato che è progettato per consentire a chiunque di gestire in modo molto semplice sicuro le proprie risorse viene supportato da strumenti di analisi gestione del rischio smart money e tutti i dati on chain abbiamo poi re juve ai che è una rete decentralizzata di ricercatori clinici e contributori che lavorano insieme per la ricerca sulla longevità passando poi per nonette che costruisce un'infrastruttura che fornisce una potenza di calcolo distribuita a livello globale e storage per tutte le reti decentralizzate sofia verso ovviamente come lascia intendere è un multiverso basato anche sulla creazione di nft a walking in health dove è un sistema di robot umanoidi atti a sostenere le persone più anziane e quindi nel campo della medicina assistita gem galaxy dove avviene l'incontro della musica decentralizzata dove mettono in contatto artisti con tutte le comunità musicali creando degli strumenti musicali con l'intelligenza artificiale ospitando concerti anche gestiti da robot passando poi da hiper la nuova side chain di livello 2 che progettata per andare a fornire un'infrastruttura scalabile a basso costo per le applicazioni di intelligenza artificiale mindplex una piattaforma anch'essa musicali che collega creator consumatori per un'esperienza multimediale basata sulla sulla meritocrazia e la reputazione e questi come detto sono soltanto alcuni dei pochi esempi di progetti ed ecosistemi che si stanno sviluppando intorno all'intelligenza artificiale all'ecosistema di singularity net sito comunque a visitare il sito internet e singularity net punto io per andare a vedere tutte le informazioni la road map tutti i lavori magari spiegati più nel dettaglio se siete curiosi volete saperne qualcosa di più rispetto a quello che potete sentire e vedere all'interno di questo contenuto per quanto riguarda il team altamente verificato quindi nulla da dire sulla sua composizione per quanto riguarda un altro servizio di intelligenza artificiale parliamo di numeri ho già portato un contenuto all'anno scorso dettagliato per questo protocollo che si può riassumere come una piattaforma basata su e tiri omo che consente agli sviluppatore e scienziati di creare modelli di machine learning l'obiettivo principale di questo protocollo e portare la decentralizzazione per quanto riguarda il campo della scienza e dei dati e consentire agli sviluppatore di competere nella creazione di modelli effettuano delle previsioni di machine learning molto efficaci ed è stata fondata nel 2015 a san francisco affermato di essere il primo edge found a lanciare una cripto valuta sul mercato ea differenza dei tradizionali edge found si affida ai dati e alle previsioni prodotte dai partecipanti dei tornei per andare a partecipare al mercato azionario questo approccio innovativo di trading azionario rende numeri uno dei primi e soprattutto unici edge found a far affidamento in modo molto significativo sulle previsioni del mercato totalmente dall'intelligenza artificiale ai che è una block chain completamente decentralizzata peer to peer dotata di intelligenza artificiale alta all'apprendimento automatico si basa su il protocollo intercene cosmos sdk e utilizza come linguaggio cosmo wasm molto importante perché con sente alla rete fatch di funzionare da rete di livello 1 per e tiro ma anche un ponte intercene verso tutte le altre reti con altre connessioni anche questo protocollo funziona come una sorta di incubatore svolta a sovvenzionare gli sviluppatori l'ingegnere di intelligenza artificiale che vogliono lavorare con questo ecosistema con un fondo che se non vado errato va dai 150 200 milioni di dollari anche questo protocollo come due precedenti non è nuovo sul mercato ed è stata lanciata per l'appunto nel 2017 da un team con sede a cambridge il suo obiettivo come detto poco fa è fornire degli smart contract per implementare soluzioni di apprendimento automatico e intelligenza con intelligenza artificiale per la risoluzione dei problemi di decentralizzazione nel mondo della block cene e non solo questi strumenti ovviamente sono tutti open source in sovraimpressione possiamo trovare alcuni partner di questi ecosistemi coinbase binance gemini in da coin bosch festo ed otter adventure anche questo protocollo ha un token nativo un tocco in utility una valuta che si chiama fette che serve per acquistare tutti i servizi annessi all'intelligenza artificiale di questo ecosistema fornitura massima di questo token poco più di 3 miliardi di token bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo contenuto ho cercato di riassumere nel breve tempo possibile alcuni concetti vi invito comunque andare sul sito dei produttori delle bloccine di riferimento per andare a scoprire maggiori dettagli vi ringrazio per essere arrivati fino a qui fatemi sapere nei commenti se pensate che voi che l'intelligenza artificiale potrebbe essere un nuovo trend nel mondo delle cripto valute non solo fatemi sapere cosa ne pensate ma soprattutto quali secondo voi potrebbero essere trend vincenti all'interno di questo settore come ho fatto in apertura vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale lasciandomi un like e attivando la campanellina ciao a tutti